Bill ha 198 biglie nella sua collezione, poi ne compra altre 44. Un anno dopo, Bill non vuole più le sue biglie e decide di dividerle più equamente possibile tra gli altri 31 studenti del suo corso di matematica. Quante biglie otterrà circa ciascuno dei suoi compagni di classe? La parola circa vuol dire che non dobbiamo ottenere la risposta esatta. Dice circa, cioè ci chiede di fare una stima di quante biglie ottiene ciascun compagno di classe. Vuol dire arrotondiamo un po' questi numeri per rendere i calcoli un po' più semplici. Proviamoci. Bill inizia con 198 biglie. Beh, possiamo arrotondare i numeri alla decina e magari questo ci semplificherà le cose. Quindi 198, se lo arrotondiamo al 10 più vicino, guardiamo il posto delle unità. Nelle unità abbiamo un 8. Se nelle unità c'è un numero uguale o maggiore di 5, allora si arrotonda per eccesso. Se stai arrotondando al 10 più vicino. Quindi il 10 più vicino, se arrotondi per eccesso 198, è 200. Arriviamo a 200, che poi è anche il 100 più vicino. E questo segno di uguale fatto a serpentello vuol dire circa uguale o approssimativamente uguale. Perciò ecco quante biglie ci sono all'inizio e poi ne compra altre 44. 44 è circa uguale a... Se arrotondiamo al 10 più vicino, guardiamo le unità. Sono meno di 5. Allora arrotondiamo per difetto 44. La decina sotto 44 è 40. Se andiamo al 10 più vicino in basso, arriviamo a 40. Perciò quante biglie in totale aveva Bill prima di distribuirle? Beh, se prendiamo le nostre due stime e le sommiamo, 200 più 40, Bill aveva circa 240 biglie prima di distribuirle. Ora, a quanti studenti distribuisce le sue biglie? In totale sono 31 studenti. 31 studenti. Ma di nuovo arrotondiamolo. Se arrotondiamo al 10 più vicino, lo arrotondiamo per difetto perché nelle nostre unità c'è 1. E 1 è minore di 5. Quindi arrotondiamo la decina sotto 31 e di conseguenza diventerà 30. Se abbiamo 240 biglie e Bill le distribuisce tra circa 30 persone, allora quante ne ottiene ciascuno? Ognuno di loro ne ottiene 240 diviso 30. 240 diviso 30. Lo ripeto di nuovo, questa è solo una stima. Circa 240 biglie diviso 30 persone. E quanto fa 240 diviso 30? Se diciamo che questo è uguale alle biglie per studente, allora diciamo che è uguale a M. Sono M biglie per studente. Cioè, questo è un altro modo di dire che M moltiplicato per 30 è uguale a 240. Oppure che 240 è uguale a M per 30. Lo scrivo così. Quindi è la stessa cosa di dire che 240 è uguale a M per 30, dove M è proprio quello che stiamo cercando. Ma M è il numero di biglie per studente, circa. Allora pensiamo a cos'è M. Ci sono più modi di farlo. Possiamo semplicemente guardare i multipli di 30. Quindi 30, 60, 90. Guarda, è molto simile a fare i multipli di 3, ma ora abbiamo lo 0 in più. I multipli di 3 sono ora nel posto delle decine. E ora abbiamo uno 0 nelle unità. 90, 120, che è un 12 con uno 0 vicino. 150, 180, 210, 240. Eccolo qui. E' 30 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sappiamo che 240 è uguale a 30 per 8. Allora possiamo scrivere che 240 è uguale a 8 per 30. O 30 per 8, che è la stessa cosa di 8 per 30. E' uguale a 8 per 30. Oppure potremmo dire il numero di biglie che ciascun amico ottiene è circa 8. Questo sarà 8. Ognuno dei compagni di classi otterrà circa 8 biglie. E di nuovo, questa è una stima, non è una risposta esatta. Ora tu potresti aver provato a ottenere una risposta un po' più precisa. Se non volevi arrotondare sia 198 che 44, potresti averli prima sommati. 8 più 4 è 12. E poi 1 più 9 più 4 è 14. 1 più 1 è 2. Quindi il numero esatto di biglie è 242. che comunque è vicino a 240. Quindi 240 era una buona approssimazione. Se dividi per 31, beh, è un po' faticoso, ma possiamo approssimare e fare una stima. Quindi dividiamo per 30 e otteniamo 8. Questa è un po' una digressione, ma guarda, guarda bene. 24 diviso 3 è uguale a 8. E se dividi 240 diviso 30, anche questo è uguale a 8. Quindi se dividi qualcosa 10 volte più grande per qualcosa 10 volte più grande, ottieni sempre lo stesso risultato. Ma ad ogni modo, ognuno dei compagni di classe otterrà circa 8 biglie. e poi la parte di classe otterrà circa 9 biglie. Quindi la parte di classe otterrà circa 9 biglie. E poi la parte di classe otterrà circa 9 biglie. E poi la parte di classe otterrà circa 9 biglie.